I Carabinieri della Compagnia di Urbino, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Pesare Urbino, in collaborazione con il locale Ispettorato Territoriale del Lavoro e di Asura Reavasta 1 di Urbino, a seguito di controlli effettuati nei confronti di sei aziende dislocate ad Urbani e Cagli, gestite da imprenditori di origine cinese, hanno rilevato violazioni di carattere penale amministrativo che hanno portato ad individuare sette lavoratori in nero e due persone sprovviste di permesso di soggiorno. Le indagini effettuate dai militari hanno condotto anche alla denuncia piede libero di uno dei sei imprenditori, un trentenne di origini cinesi e dal sequestro di due capannoni. È stato inoltre impartito un provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali, legato anche alle numerose violazioni alla normativa Covid in ambiente di lavoro. All'interno dei capannoni vi erano inoltre dei dormitori sprovvisti di riscaldamento con minori all'interno. A carico degli imprenditori sono state elevate sanzioni per oltre 28 mila euro per aver impiegato lavoratori in nero.